RBA Radio TV, Caffè Blu, il bistro radiofonico e televisivo in trasferta in Valle Vermenagna per il Festival Immaginè, uno dei progetti culturali della Know How. Siamo qui nel centrovisita di Vernante, il cuore della Valle Vermenagna, con il sindaco di Vernante, Giampiero Dalmasso. Buongiorno Giampiero. Buongiorno, buongiorno ai radioascoltatori. Grazie per essere qui con noi. Siamo ospiti del centrovisita, un punto di riferimento non solo per i turisti, per coloro che passano da Cuneo per raggiungere Limone, ma anche per fermarsi qui a Vernante, un centro che vuole essere anche un punto di ritrovo, un vero e proprio centro culturale, non solo turistico, e tra poco ne parleremo, ma innanzitutto Vernante. Lo so che se ne parla tanto, se ne è parlato anche in più di un'occasione di questi famosi murales, che rendono il centro storico di Vernante ancora più speciale. Da dove nasce questa storia, molto romantica se vogliamo, legata a Pinocchio? Questa storia nasce soprattutto perché Vernante ha risieduto negli ultimi anni della sua vita a Tiglio Mussino. Attilio Mussino che ha preso in sposa una Vernantina e nell'ultimo periodo, appunto, vivendo a Vernante, ha ipotizzato, ha realizzato delle tavole con Pinocchio utilizzando anche degli sfondi di Vernante. Il più emblematico è quello con la Turusella, il castello nostro. Però il tutto nasce da un'intuizione dell'allora sindaco Bassignano Sebastiano e Bruno Carletto, che in trasferta in Germania vedono dei murali su una casa e si pongono questa domanda perché a Vernante non potremmo utilizzare e sfruttare questo nostro burattino. Insomma, da allora parliamo di che anni più o meno? Siamo a 35 anni circa dal primo murales. Adesso la cifra in murales dedicata a Pinocchio nel centro di Vernante ha superato quota? 169 mi pare che siamo. Quindi un vero e proprio percorso museale all'aperto, insomma. Un vero museo all'aperto, libero a tutti e quindi percorribile da tutti, bambini, adulti, anziani, accompagnati, ai quali abbiamo abbinato ora un itinerario con QR per cui ci si può anche giocare con una caccia al tesoro e quindi è stato sfruttato molto ed è molto utilizzato. Vale Vermenagna, un luogo di passaggio appunto per raggiungere la Francia, sappiamo i problemi che ci sono al giorno d'oggi per appunto il collo di tenda eccetera, però parlerei dell'attualità di oggi, insomma Vernante è un luogo, una piccola città che sa davvero offrire tanto a livello paesaggistico e meraviglioso ma anche appunto a livello culturale c'è una storia dietro e soprattutto offre grazie a questo centro visita diversi spunti per vivere un'esperienza piena davvero in questo luogo. Sì, grazie anche all'associazione Know How, grazie al nostro impegno di amministratori siamo riusciti a realizzare con questa festival l'immagine appunto l'arte dell'immagine che si trasforma e viene a portata di tutti, soprattutto dei bambini, ma abbiamo dei workshop a cui partecipano molti adulti e ecco secondo noi, secondo la nostra amministrazione questo è stato un punto di forza per partire per avere oltre che all'aspetto paesaggistico appunto un qualcosa di culturale che sta attirando molte famiglie e molti che probabilmente non erano propensi a frequentarci. Quindi partendo dall'intuizione di Beppe Carletto e di Bruno Carletto che realizzò appunto con l'altro suo compagno d'avventure questi murales dedicati a Pinocchio insomma il tema della fantasia, del racconto Vernante ce l'ha proprio dentro. Sì, Vernante ha la fantasia, poi lo abbiniamo anche alle bellezze che abbiamo su al parco di Palanfra la prima riserva naturale che ha festeggiato già oltre 40 anni e che questa è anche sede che ospita appunto una parte del parco, appunto centro visita e che a brevissimo vedrà grazie appunto al parco un restyling per accogliere ancora di più quelle che sono le mostre, quelle che sono le esposizioni, quello che culturalmente il pubblico ci sta richiedendo. Quindi il parco Alpi Marittime e poi i progetti futuri che vogliono puntare ancora di più sul turismo e sull'accoglienza evidentemente. Esatto, sull'accoglienza, sul offrire un prodotto culturale oltre che paesaggistico perché quello ce l'abbiamo, stiamo investendo molto anche sui giardini pubblici che sono già un fiore all'occhiello per la nostra comunità, però appunto bisogna ancora di più impegnarci su questi rami, se vogliamo portare la gente, se vogliamo che i nostri cittadini non abbandonino e non vadano a risiedere in altre località. Ecco, anche questo il tema della presenza, della residenza in luoghi come Vernante passa anche da questo, dall'offerta culturale e dalla capacità di accoglio. Assolutamente sì, siamo sempre più convinti e lo tastiamo con le nostre mani, con i nostri occhi abbiamo visto quest'anno una frequenza molto assidua di famiglie, di bambini per cui siamo contentissimi di questa nostra ospitalità che stiamo dando grazie anche ai nostri operatori economici che sanno fare il loro mestiere e però grazie anche a questi aspetti culturali, ripeto, forse ci ripetiamo tanto però sono questi che servono per far sì che le comunità crescano. C'è un obiettivo, insomma, una scadenza? Entro quando vorreste realizzare questo progetto di implementazione, insomma, dell'offerta? Noi abbiamo buttato tante basi, abbiamo un impegno di circa 70 mila euro da impegnare in questa struttura, impegnati già a 165 mila euro per i giardini e poi io sono in scadenza la prossima primavera però credo che comunque chi mi seguirà o sarà io, senz'altro continuerà su questa strada perché è una strada vincente è una strada che porta i suoi frutti. Quindi per il 2023, e poi la saluto e la ringrazio, l'obiettivo è quello di rendere quindi questo centro visita e il vernante in generale ancora più accogliente. Questo è il nostro obiettivo, questo è stato l'obiettivo ormai di dieci anni e credo che in buona parte ci siamo riusciti. Grazie Sindaco, Sindaco di Vernante e Gianziero Dalmasso. Buon lavoro.